Benvenuti al Let's Play di Metal Slug 1 giocato da due giocatori da me e da mio amico Ben iniziamo subito con la prima missione fatta quasi se non tutta esclusivamente da soldati Ebbene ci saranno non ho altro da dirvi per la descrizione Sarà un normalissimo Let's Play di Metal Slug E moriremo Non sarà come l'X Bene continuiamo Ecco qua ci diamo un po' di pescatori Questo è stato il primo Metal Slug Dopo sono venuti tutti gli altri Bene qua prendiamo il Metal Slug Qua è figo perchè puoi distruggere tutte le capanne Ci diamo sui soldati Sono rompipalle però veramente gli elicotteri Soprattutto più scarsi perchè Gli uccidono in un momento però loro devono venire a rompere le palle Cioè è nel loro DNA Scusate ho un po' di tosse Qua ci sono i carammatini E qua c'è questa Minchia qualcuno è entrato in messenger E qua c'è il primo Il boss diciamo C'è questa costruzione Ecco qua intanto Metal Slug me lo stanno facendo fuori Eh fatto fuori C'è questa costruzione che sembra Un mostro Un mostro meccanico Bene abbiamo distrutto il boss E la prima missione l'abbiamo già fatta È venuto molto corto ma Va bene così Io vi aspetto alla Prossima parte Mission 1 Complete Iniziamo con un'altra missione di Metal Slug 1 Ambientata in questa Che sarebbe essere una metropolitana Il serorologico È una missione abbastanza bella direi Ma è mi piace abbastanza Bene là ci sarò Ecco figo Quando togliete il barbone Esploderà diciamo L'orologio Ecco qua c'è una parte che non mi piace Fare tipo Alla Alla Super Mario Bros In cui devi saltare Non mi piace per niente Qua Andiamo a lanciare fiamme E cominciamo a incendiare letteralmente Tutti Tutti i soldati I paracodutisti che ci sono Di questo esercito No E pensare che questi soldati Ci hanno rotto le palle Per 8 giochi Contando l'X Al double X Bene Proseguiamo Qua veramente Hanno fatto un casino Da madonna Da notare là La scimmia bianca Però E al contrario De l'X Qua non mi fermerò Ma cercherò di fare Il Più velocemente possibile Ecco qua Fighissimo Quando Distruggi un car Un car Un car al mattino Esce subito fuori Il conducente Dell'ammazzo Con un colpo Ecco qua Ci saranno Ste barchette Veramente Rompipalle Però Facile da distruggere Non Non vedo grandi problemi Qua i soldati Cercheranno di togliere l'acqua Figo Anche se adesso Su ste barchette Ci asperemo Per Un po' Non mi ricordo Per niente Quando ce ne sono Non credo Tanti Comunque Ecco qua Vedo che Te lanci Se ne vaffanculo Ecco anche Anche il mio amico Se ne vaffanculo E Tattara Dai Dai Ecco qua Le bombe Veramente fatte In un modo Molto veloce Venti qua Lo sciocca Bene E finalmente proseguiamo dopo Se ne ho contato male Tre Poi siamo sopra al ristorante L'ambientazione di questo Metaslag è bellissima Secondo me Anche fare Simba a Venezia Perché C'è il ristorante Proprio Sul Sul livello dell'acqua Ecco qua Ci sono sempre Senti barboncini Che mi dai Che mi Ah sciocca E se sciocca Bella cazzo di cane E heavy machine Qua ci sarà E il secondo boss Dove dire che Metaslaguno Le parti sono corte Molto probabilmente Le metterò Delle missione assieme Per Fare il Let's play Più corto Diciamo Ecco qua Ci sono questi Arroplanini Che ovviamente Amai Fanno ridere un casino Perché Sono Tonti No No Andato via Quello che piaceva a me No Andato via Che merda Poi ci sono questi Che Ci romperanno Ecco No Cos'è andato A fanculo Ci soldati Sono rompi Valle Non rompegazze Proseguiamo Distruggendo Ogni cosa Che troviamo Ecco Ecco L'aeroplanino L'aeroplanino Cicciona Ecco Ve l'avore E' Qua Siamo Terzo boss Anche se Sarebile Il secondo Ovvero Qualche missione Mettono Anche Boss Un boss Intermedio Se boss Si può chiamare Perché Comunque Comunque Non è molto Difficile Da Da distruggere Da uccidere Bene bene Non Come ho già detto Ma L'aeroplanino È abbastanza facile Da fare Non Non vedo Molta difficoltà E lì c'è Quel stronzo Con il bazooka Ecco Il mio amico Se ne va a fanculo Ma se ne va a fanculo Anche lui Anche il nostro nemico Si Non ho fatto Un epic Fele Anche la missione Due È finita Quindi Ciao